Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, notizia di qualche mese fa, oggi parliamo di SoundRiff e C.A.E. e parliamo del fatto che è possibile essere iscritti a tutte e due le società. Clamoroso, abbiamo sempre detto che non era possibile, devi sceglierne una. In realtà è così, però ci sono dei casi in cui è possibile utilizzare SoundRiff per una tipologia di diritti e la C.A.E. per altri tipologie di diritti. Quindi sì, è vero che non puoi utilizzare SoundRiff e C.A.E. contemporaneamente per gli stessi diritti, questo è vero, non si può, però possiamo utilizzare SoundRiff ad esempio per l'online, per i diritti online, quindi SoundRiff ci gestirà soltanto i diritti online, quindi derivanti appunto, tutte le royalties derivanti dalla fruizione delle nostre canzoni online e magari la C.A.E. si preoccuperà soltanto delle royalties per quanto riguarda i live, ok? Ed è proprio quello che è successo nel mondo del rap. Abbiamo visto notizia di qualche mese fa che, appunto io sono sulla stampa, ora non so se c'è la data di questo articolo, è il 6 ottobre, è stato pubblicato, quindi notizia, siamo al 16 novembre, è il momento in cui registro questo video, da sfere basta Marrakesh, grande fuga da Siae, i big del rap passano a SoundRiff, però se vai a leggere nel sottotitolo, la società di Davide Datri da gennaio gestirà le royalties per l'online, quindi solo l'online, ok? SoundRiff si occuperà dell'online, per quanto riguarda la musica di sfere basta Marrakesh, si legge anche Gepe Kenyo, hanno attinto dal mondo del rap, dai big del rap, pare ci siano anche Takachi e Ketra, si chiamano così? Scusate io, con il mainstream, sì, Takachi e Ketra, tra gli ultimi ci sono anche due super big, ovvero Alessandro Merle e Fabio Clemente, in arte Takachi e Ketra, i due produttori hanno venduto oltre 10 milioni di copie in soli 6 anni e sono diventati dei tormentoni estivi con tutte le hit da ballare, in tutto SoundRiff gestisce i diritti di oltre 39.000 autori ed editori, di cui 22.000 italiani, quindi per questi artisti SoundRiff gestirà soltanto la parte online, quindi questa cosa si può fare? Possiamo far gestire a SoundRiff solo l'online e magari live a SIAE o viceversa, oppure la tv, ora non so bene, quando praticamente SoundRiff si è affacciata nel mercato italiano, molti utilizzavano, diciamo, la SIAE per avere le royalties, per gestire le royalties dei diritti derivanti dalla radio e dalla tv, perché SoundRiff non aveva questi servizi, SoundRiff aveva soltanto l'in-store e i live, e quindi chi era in SIAE magari voleva utilizzare SoundRiff per i live, quindi che cosa bisogna fare? Nel caso voi vi trovate con SIAE per esempio è, volete, diciamo, limitare i suoi servizi, perché volete utilizzare per alcuni servizi soltanto SoundRiff, perché dicevo, all'inizio molti facevano, revocavano il mandato per quanto riguardava i live, e quindi i live li gestiva SoundRiff, se li facevano gestire da SoundRiff, e con la SIAE restavano soltanto per quei diritti servizi che riguardavano appunto la tv e la radio, perché SoundRiff non aveva quei servizi. Adesso che SoundRiff è cresciuta, cioè all'online, la tv ha un sistema, leggevo addirittura un'intervista qualche tempo, cioè no, ho visto di un'intervista che titolava appunto, forse su S Magazine, Davide Datri diceva che se SIAE, invece di fare la guerra, SoundRiff avesse investito in tecnologia, a quest'ora loro sarebbero spariti, perché diciamo che il punto forte di SoundRiff è proprio il sito, la tecnologia, proprio come sfrutta la tecnologia per appunto espletare i loro servizi. E infatti adesso che sta succedendo? Che per i live magari si usa SIAE, perché ovviamente SIAE è radicata nel territorio, ci sono praticamente tutti gli uffici, ci sono dei comportamenti ormai che vanno in automatico, chi ha un locale va dall'ufficio SIAE e paga il live, e quindi magari è più difficile questo da scardinare, anche se col sito di SoundRiff funziona benissimo. E però per l'online adesso, per tutti i diritti che riguardano l'online, SoundRiff è alla vanguardia, quindi si preferisce utilizzare SoundRiff. E in questo modo diciamo che SoundRiff si è ritagliata la sua fetta di artisti, anche big, grossi. E quindi effettivamente ha ragione Davide Datri quando dice che la SIAEE invece di fare la guerra a SoundRiff avrebbe dovuto investire in tecnologia, perché è come se è la stessa roba di Blockbuster e Netflix. Blockbuster invece nel momento in cui era all'apice aveva tutte le risorse per creare il suo Netflix, invece di rimanere ancorata al passato le videocassette senza capire che il futuro era appunto Netflix. Vabbè, questo è un esempio che c'entra e non c'entra. Però per capire, la SIAEE in un monopolio si affaccia qualcuno di nuovo, a quel punto invece di fare la guerra a questo nuovo, invece di preoccuparti, siccome tu hai un enorme vantaggio, perché comunque hai un enorme vantaggio, hai tutti gli uffici SIAE, sei in monopolio, gestisci tutto, rete, collaboratori, da anni e anni che funziona così, ti davi una svegliata dal punto di vista tecnologico e SoundRiff veniva dimenticata. Invece non l'hai fatto. Però, allora, torniamo a noi perché stiamo, come dico sempre, dilagando, che ho scoperto non vuol significare nulla, perché la parola esatta è divagando. Sto divagando. Bisogna, quindi, se siete iscritti a SIAE e volete gestire l'online, per esempio anche voi, come hanno fatto i big del rap italiano, della trap, dovete andare sul sito della SIAE, molto semplicemente, scrivete Limitazioni di tutela SIAE e vi uscirà questa pagina. Quindi, ogni associato mandante SIAE ha la possibilità di limitare gratuitamente le categorie di diritti e o di territori per i quali è richiesta la tutela presentandone apposita richiesta. Come si fa a fare questa cosa? O attraverso il portale Autori ed Editori, quindi vi loggate se avete accesso al sito online di SIAE e autonomamente modificate in modo semplice e veloce i dati relativi alla vostra posizione. Oppure dovete compilare il modulo relativo alla variazione richiesta che trovate sempre sul sito della SIAE qui, e quindi qui dovete compilare praticamente Notifica Limitazione di Mandato, il sottoscritto bla bla bla, e quindi dovete, la revoca può essere o dei territori o delle categorie di diritti. Quindi qui magari Limitate. Preso atto che la facoltà di limitare il mandato può essere esercitata al momento della presentazione della domanda di associazione, ovvero con un previso di minimo 4 mesi e con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo. Quindi diciamo che qui vige la stessa regola di quando vi volete cancellare da SIAE e iscrivervi a Sundrift. Mandate questa revoca entro il 31 agosto, ok? E avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Quindi adesso potete farlo, no, agosto no. Quindi se lo fate adesso, ragazzi, la revoca è attiva dal 1 gennaio del 2022. Quindi entro agosto del 2021, correggetemi se sto sbagliando i tempi, ma credo di no, dovete mandare questa richiesta ed è attiva dall'1 gennaio del 2022. Comunica di volere escludere, quindi dovete scrivere che cosa escludete. In questo caso potreste mettere diritti online oppure esecuzioni live. Magari i territori lasciate in bianco perché non credo che abbiate desiderio di limitare in qualche paese. Il sottoscritto si obbliga a comunicare depressivamente sia qualsiasi bla bla bla. Ma inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti rivolgendosi bla bla bla. Si bisogna allegare la presente copia di documento fronte-retro, ok? Quindi stampate, compilate, allegate la fotocopia di un documento di identità e dove lo mandate? Attenzione. Fate una bella raccomandata. R a servizio clienti sia e via della letteratura. Oppure con una PEC lo mandate qui. Quindi possiamo avere, diciamo, una gestione mista dei nostri diritti con CIE e Soundriff. Ovviamente CIE e Soundriff non possono gestire gli stessi diritti, quindi devono essere diversi. Ma possiamo, per esempio, come è successo, utilizzare l'online per Soundriff e tutto il resto CIE. Oppure per il live vogliamo utilizzare Soundriff e per l'online CIE, anche se al momento vi consiglio Soundriff che sull'online è, diciamo, un passo un po' avanti. Se Sfere basta, che, ricordiamoci Sfere basta, chi è? L'unico primo artista italiano, ora può piacere o non può piacere, primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma streaming di Spotify. Ora, se lui va via da CIE per quanto riguarda, non completamente, ma per quanto riguarda la gestione dell'online, dei diritti online, va via da CIE, va verso Soundriff, facciamoci qualche domanda. Fatemi sapere se vi è stato utile e se questo video vi è piaciuto e, come al solito, ragazzi, sostenite questo canale se vi è d'aiuto, commentando, mettendo like e iscrivendovi, se non siete ancora iscritti, davvero iscrivetevi al canale, perché la maggior parte delle persone che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Quindi dai, iscriviamoci tutti in massa così ha molta più visibilità, può essere utile a tutti i musicisti, quindi attivate la campanella con le notifiche per restare aggiornati e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!